Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Gangster Parody e oggi vi insegnerò come avere, anzi come far scorrere Simsonite Run a 40 fps Infatti adesso io vorrei farvi vedere In alto a destra potete vedere 51 fps da fermo Ma mentre ci muoviamo in macchina per esempio fanno 40 fps Però, va Il gioco andrà bene, sapete perché? Perché c'è la pick up moddato e dei game settings molto particolari Fate attenzione Grazie a tutti Poi I need you to run to the store and pick up some of that ice cream with the miniature pies in it Must have been one of our kids Probably Milhouse Sweet Not a very good driver 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 Grazie a tutti. 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 Se il video vi è stato utile scrivetelo sotto nei commenti e se avete qualche domanda ovviamente scrivetelo sempre sotto nei commenti. Oltre che caspita guardi scusa. Levate. Vabbè lasciamo stare.